Siamo a Firenze, presso lo studio del dottor Basagni. Il dottor Basagni oggi ha gestito il suo primo paziente con il nabilente. Dottor Basagni, qual è la sua esperienza di questo primo caso clinico? Allora, come io ho fatto prima di poter fare questa gestione del mio paziente, qui in studio da me, ho fatto un corso di certificazione come prevede l'azienda dove ho ricevuto un'istruzione adeguata per poter usare questa nuova tecnologia. Oggi finalmente ho potuto gestire con soddisfazione il mio primo paziente in studio, eliminando qualsiasi tipo di rapporto anche con il laboratorio, gestendo tutto dall'A alla Z, l'intervento e le fasi preliminari, in studio direttamente alla poltrona con la costruzione del Navistent con l'esecuzione della phone bin, la quale poi permette di accoppiare le immagini con quelle che viene ripreso dalle telecamere di questa sistemata. E quindi hai la possibilità di poter eseguire l'intervento in maniera flapless, quindi sicura, assolutamente conservativa, mini-invasiva e poi controllare queste fasi di lavoro direttamente sul monitor del computer, quindi hai tutto sotto controllo, è una cosa che io ritengo molto interessante e positiva sicurpa, quindi ho unico più sufficiente. Grazie mille per questa sostenienza. Grazie. Adiós. A vero. Cọc прим attravinciåtoti qui con l'UNI D arbetsupol το 10 pin headquarters 08 33 31 33 Grazie a tutti.